ed eccoci qua con l'ultima macchina che ho costruito nonostante che sia uscita prima delle altre due l'ho presa per ultimo è la Bugatti bellissima veramente bella colorazione classica di quella che è uscita perché so ho visto se non male che ci sono altre colorazioni ora non lo so comunque a me piaceva questo colore qui questo blu scuro e blu chiaro azzurro quasi dal davanti molto 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 bella cosa vi devo dire adesso ve la faccio vedere bene e manca soltanto il Porsche arancione perché c'è anche in versione rally però mi piace più arancione però francamente non ho più spazio non so dove mettermi quindi mi fermo a queste tre per ora poi nel futuro non lo so e poi le macchine diciamo queste qua da lusso ce l'ho tutte poi le hanno fatte tantissime altre qui parliamo di una macchina che è 54 di lunghezza 30 da specchietto a specchietto all'incirca perché non riesco a misurarla bene e parliamo di 15 centimetri d'altezza un bel macchinone veramente bello e ai cerchi vediamo se sono ma dovrebbe essere quasi tutti uguali all'incirca sei centimetri e mezzo di diametro ed è qua questa è bella molto 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 bella spero che il video faccia onore al colore perché veramente bello guardate gli interni che sembra quel colore camosso che bello che è proprio bello poi davanti c'è al cofano che si alza questa c'è una chiavetta che serve per poter alzare abbassare l'alettone c'è anche lei la valigia ora per alzare l'alettone devo ricordarmi dove è il foro vabbè poi se me lo alza a mano come vedete qua vi faccio vedere bene all'interno dal lato passeggero il motore a vista con i pistoni che si muovono andando avanti indietro delle ruote con quella chiavetta qua sotto c'è un forellino dove i fili giri si alza si abbassa l'alettone se no volendo potete farla anche a mano non è che si rompe ora ma lontano un attimo così la vedete meglio guardate davanti come bella come aggressiva è veramente bella bella sportiva al massimo proprio bella belli interni chiari così che si spiccano di più sul blu questo è dal di dietro e qui abbiamo un lato passeggero se dire questo mi sono sottilato un po giù se lo faccio vedere bene qui c'è l'alettone che può stare su lo piegate come volete ragazzi niente non ho altro raggiunto spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ricordatevi il like con queste macchine per ora ho finito altri lego ma non c'entra niente le macchine fino ad ora da costruire solo su harry potter quindi se vi piace harry potter non so quando usciranno dei nuovi video su harry potter se no comunque usciranno altre action figure altri master e così via quindi se vi è piaciuto il video lasciatemi un like se potete seguitemi ciao e buon weekend ciao 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 ciao